Ed eccoci ancora in diretta, buongiorno, questa mattina ospite il professor Lorenzo Pignataro, buongiorno professore Ottorino Laringoiatra, direttore dell'unità operativa di Ottorino Laringoiatria e chirurgia cervico facciale del Dipartimento Chirurgico del Policlinico di Milano, nonché professore all'Università degli Studi di Milano, insomma professor Pignataro davvero un piacere averla qui con noi oggi perché guardate come abbiamo titolato alle spalle del professore smettere di russare, certo la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma identificare già professore le cause che determinano il russamento è molto direi. Sì, perché russiamo? Perché sostanzialmente le nostre vie aeree, cioè il palato molle, l'ugola, la cavità orale non vibrano, non sono un tubo rigido, però noi dobbiamo anche domandarci e sapere che non tutti russiamo e perché non tutti russano? Perché il paziente è sano, ha un tono muscolare che riesce a controbilanciare l'effetto fisiologico che avviene durante il sonno che le vie aeree tendono a collassare. Nel soggetto patologico questo non avviene anche perché spesso esistono delle cause che favoriscono pensiamo a delle anomalie anatomiche oppure il paziente obeso, il paziente obeso è un paziente che più frequentemente russa di altri. E in linea di massima che cos'è il russamento? Il russamento non è altro che un fenomeno acustico sonoro che è ritmico con le frequenze respiratorie, questo è un russamento semplice che si deve distinguere dal russamento intermittente che può essere uno dei primi sintomi e segni di qualcosa di più complesso che è l'apnea notturno definita OSAS che potrà essere differenziata a seconda della sua entità in diverse forme. Si è portati a pensare che russino soltanto gli uomini, spesso le donne si lamentano dei mariti ma non è così perché russano anche le donne e anche i bambini? L'incidenza del russamento è sicuramente più alta nell'uomo ma è molto spesso la donna in effetti che manda il partner o il coniuge verso il medico perché è russa. Il russamento in America è una delle più alte cause di divorzio. Addirittura? Ecco. Un'altra situazione è chiaro che il russamento ha un'incidenza più alta dopo i 50 anni, ha un'incidenza perché c'è una lassità delle strutture nella donna per la menopausa, nei bambini l'incidenza è più bassa, non c'è differenziazione in questo settore tra bambine e bambini e questo è legato al fatto che sostanzialmente il russamento e la causa più frequente nel bambino è l'ipertrofia delle tonsille e delle adenoidi. E quindi si risolve facilmente asportando le adenoidi e le tonsille. Professore, allora veniamo alle cose positive. Come si risolve il problema, ammesso che lo si possa fare? Il problema deve essere prima di tutto inquadrato, cioè giunge da noi spesso allo specialista ottorino la ringoiatra il paziente, perché il paziente ha dei sintomi che sono spesso legati alla secchezza, alla difficoltà di respirare e quindi giunge da noi. E la situazione è quella di inquadrare il paziente. Di inquadrare il paziente significa sostanzialmente sì con una visita, con due esami che sono fondamentali. Il primo esame è la polisonnografia, il secondo esame che è il gold standard oggi è la sleep endoscopy. La polisonnografia è un esame che è un apparecchio, come un holter, è un'apparecchiatura che serve a monitorare il sonno del paziente, può essere fatta anche domiciliariamente, ed è un'apparecchiatura che ci permette di evidenziare quanto dorme, come dorme il paziente, come russa, quanto russa e che apnee ha. Noi dobbiamo distinguere le apnee in apnee lievi, medie e gravi, in rapporto alle desaturazioni. Questo è molto importante perché il paziente che viene definito russatore o apnoico, OSAS, verrà poi indirizzato a una sleep endoscopy. Questo esame lo esegue lo specialista otorino laringoiatrico. È un esame gold standard perché viene fatto in sala operatoria, viene effettuata un'anestesia locale, viene indotto il paziente a dormire e attraverso un'endoscopia relativamente banale come strumentazione, quindi basta un endoscopio, viene valutato quali sono i sedi di collasso a livello delle cavità orali, a livello della cavità nasale, a livello della cavità laringia. E poi quindi si può intervenire direttamente sul collasso stesso. Quindi non si divorzia più, questa è una buona notizia, ci si può curare. Certamente. Però l'importante è di rivolgersi agli specialisti giusti, perché la soluzione c'è. Professore, grazie, è stato davvero chiarificatore su tanti aspetti. La ringrazio per essere stato con noi. Io mi fermo, facciamo una piccolissima pausa, però guardate, restate con noi perché abbiamo una seconda parte straordinaria. Restate qua.